Quello che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa era... Mamma mia! Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo qua nella saga di Ice Cream per scoprire nuovi segreti in arrivo nei prossimi capitoli Ebbene sì, questa volta parleremo di nuovi mini-road Un nuovo mini-road che in realtà era stato già presentato dai Keplerians un po' di tempo fa ancora prima dell'uscita di Ice Cream 5 ma tuttora non l'abbiamo più trovato Ecco, molto probabilmente potremo trovarlo su Ice Cream 7 Vi parlo del cosiddetto mini-road costruttore Adesso vi faccio capire anche il perché, potremmo trovarlo nel settimo capitolo o comunque nei capitoli successivi Ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se il like che lascerete sarà pari, il personaggio soggetto a me sarà il mini-road lavavetri Se avete un like sarà dispari, il personaggio soggetto a me sarà il mini-road chef Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale, attivate la camparellina Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni Ogni giorno due video Ma adesso cominciamo subito Partiamo! Non so se voi vi ricordate del mini-road costruttore Ma comunque poi a fine video vi farò rivedere l'immagine Ecco, potremmo trovarlo su Ice Cream 7 Ma non sarà un mini-road costruttore Bensì, mini-road di imballaggio Mini-road di imballatore Insomma, non so ancora come chiamarlo Quindi andiamo qua in partita E vi faccio vedere anche il perché potremmo trovarlo Ci sono molte analogie tra Ice Cream 7 E questo nuovo mini-road Vabbè, schippiamo la intro Tanto è sempre quella, è sempre quella Si parte in partita Si comincia, si comincia Allora, per far questa cosa qua Ho bisogno anche di fare il mini-gioco del gelato Quindi spero di riuscirlo a fare in totale tranquillità E spero di trovarmi E no, ecco Infatti stavo dicendo Spero di trovarmi l'interfaccia E invece, e invece Mettiamo qua questa interfaccia Perfetto Andiamo di qua Faccio soltanto attenzione Metti Ma adesso chiara il gelato Brava metti Brava metti Via, via, via Apri quella porticina Non c'è nessuno di qua Meno male, meno male Apri di qua Perfetto Apri qua Io direi di fare una cosa Mettiamo innanzitutto qua Delle belle trappole, no? Così possiamo fare il mini-gioco In totale tranquillità E possiamo proseguire Ok Via di corsa Andiamo a fare qua il mini-gioco Del mini... Cosa? Si è già messo fuori uso Io nel dubbio Gli ne metto altre qua Così Ne prende altre ancora Facciamo qua il mini-gioco Che c'è qua Vai Mettiamo qua i vari gelati Allora Gelato rosso E poi gelato verde Uno E infine gelato verde Vai Si, ok E basta però Sti gelati Tutte quante le volte No, no Seriamente Ci vuole una vita Potevano metterne di meno Cioè avrei preferito Magari avere la metà del tempo Ma dove fare meno gelati Cioè piuttosto che farne dieci Addirittura Addirittura dieci Ne hanno messi un po' troppi qua Ammetto che qua il mini-gioco L'hanno fatto un po' lungo Rispetto a quello che sarebbe potuto essere Vai qua Metti qua Metti qua Perfetto Adesso quest'altra pallina Quest'altra pallina ancora Ok Adesso giallo E rosso Si Verde E adesso che torna di qua Altro verde Si Giallo E prendi qua sto giallo E rosso Ok Ma cosa? Sembrava si fosse buggato Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No, 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 no No, no il mini-rod però si è risvegliato Si è risvegliato Vediamo se viene trascinato dal carrello No C'è passato attraverso C'è passato attraverso E vabbè però mini-rod Adesso te le vai a cercare Te le vai a cercare Adesso guardate bene proprio quale maschere Che ci sono qua Ad esempio questa è la maschera del mini-rod È normale Quello spazzino Ed è tutta quanta intera E qui guardate com'è qua la maschera Con lo scotch di sopra È una maschera scoccettata Mi fa rivenire in mente qualcosa Mi fa tornare in mente qualcosa Sta maschera così Ebbene sì Questa è la maschera Del mini-rod Costruttore Quella che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa Era Mamma mia Mi giuro Mi ho preso lo spavento Mi sono spaventato Ho lanciato il telefono addirittura Ho lanciato il telefono Ma che roba Ma che roba Ma dai Rod Non si fa così Non si fa Io stavo spiegando le cose E questo mi viene così Meno male che c'era la scrivania qui davanti Se no stesso il telefono avrebbe fatto un brutto volo Avrebbe fatto davvero un brutto volo Ma che roba Vabbè per fortuna abbiamo le vite Ma togliamo questa scatoletta Ce ne andiamo di qua Adesso per un mini-roddino Fammi fare la spiegazione in totale tranquillità Dove sta quel mini-rod? Dove sta? Perfetto Posso andare? Ah è di qua Che sta ancora dormendo Sì ma dov'è la maschera? Eccola qua La maschera del mini-coso Del mini-rod Ah non ci posso credere Ma come ho fatto a farmi prendere? Ma come ho fatto? Allora all'interno di Escru in sé Questa maschera è molto utile Perché ci serve per aprire la porta segreta La porta chiusa da un sistema di sicurezza Che sta di qua Via 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 Corriamo 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 Di corsa di corsa di corsa Apri quella porticina Perfetto Vai Una volta aperta sta porta Noi possiamo recuperare Il calzino puzzolente di rod Ma adesso Direi di fare una cosa Vabbè perché qua secondo me Succederebbero dei seri problemi Apri quella porta Perfetto Voglio pure fare un esperimento Già che ci siamo Con la maschera del mini-rod Entriamo qua dentro Adesso Droppiamo qui la maschera Così vi faccio pure vedere un'altra cosa Ma così posso parlare in totale tranquillità Senza che venga rod Allora E lanciamela bene però sta maschera Ma dai ma Allora posso vedere la faccia davanti di sta maschera Per forza così devo vederla Per forza così Allora guardate bene La maschera è tutta quanta scoccettata C'è più che scoccettata È incerottata C'è un cerotto lì sopra Come la testa Del mini-rod costruttore O mini-rod imballatore Non so neanche più come definirlo Penso sia più imballatore No? Perché effettivamente Se ci pensiamo Qui sopra ci sta Sopra qui nel piano superiore La sala imballaggio Potrebbe trovarsi la sala di imballaggio E quindi lì sopra Magari ci sono dei mini-rod Operatori Operai O comunque Quella tipologia lì Che si occupa magari Di spostare le scatole Di imballarle Per poi spedirle E magari quel mini-rod Che noi abbiamo visto Potrebbe essere uno Di quei mini-rod Che troveremo nel prossimo capitolo Di Ice Cream Che potrebbe essere Ice Cream 7 8 9 Non lo so Non lo so quante ce ne sono Anche perché Keplerians ci hanno detto Ci hanno rassicurato Che la fabbrica di rod È molto grande Ancora non l'abbiamo esplorata Più di tanto Quindi molto probabilmente Ci saranno ancora altri capitoli Prima della fine Ma non vedo l'ora Di scoprirle Ora voglio fare un altro esperimento Va Diventiamo Jay Perfetto In questo modo Adesso dobbiamo salire Nel piano superiore Dobbiamo trovare un modo Per salire di sopra Ma qui sopra Cosa c'è Provo a mettere qua Le trappole Metti qua Metti qua Vediamo dove Ma cosa Ma dai Ma mi ha portato Dall'altro lato Ma che Mi sta teletrasportando Da una parte all'altra Ma io voglio salire Nel piano superiore Voglio andare nel piano superiore Vediamo se di qua Me lo fa fare Volevo soltanto Vedere cosa ci stava Sopra la stanza del telefono Ma a quanto pare Non mi è dato scoprirlo Non mi è dato Ma va di qua E cerca di salire Come si deve Cerca di salire Mamma mia Quante trappole Tra poco mi lagherai il gioco Me lo sento Me lo sento Devo trovare un modo Per salire di sopra Ma c'ero riuscito C'ero riuscito Com'è che oggi Non riesco più a salire di sopra Perché non ce la faccio più Ok Proviamo a fare Allora il giro di qua Va Proviamo a passare da questo lato Apri quel condotto Perfetto Andiamo 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 Vai Vai Saliamo in questo modo Da questo lato Vediamo se ce la facciamo Su su Vai 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 personaggio Ma che roba Ma che Ma mi hanno fixato in diretta Il bug per salire con le trappole Me l'hanno fixato in diretta Non riesco più a salire Non riesco a salire di qua Ma che roba Oh ma ce la fai Dai 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 Su 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 Veloce 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 Dai che ce la possiamo fare Dai Ok Ad andare di qua E niente Mi sono bloccato No Vabbè Facciamo qua Teletrasporto in questo modo Oh ma che Ma oggi non riesco più a salire di sopra Ma ci sono sempre salito Qua nel piano superiore Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dopo 3000 anni Di esperimenti scientifici Sono riuscito a salire di sopra Ma adesso dobbiamo fare attenzione Dobbiamo cercare di recuperare La maschera Ma metti cosa fa Quando vede Jay Metti Vediamo se metti Vede Jay No Sì Guardate Riesce a colpire anche Jay Mamma mia Lasciami stare Lasciami andare via 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 Apri con la porta Veloce 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 Metti qua Mettiamo adesso la maschera del mini rod da Jay Vediamo che cosa succede Poi più avanti vorrei provare a fare un video Dove provo a fare la fuga direttamente con Jay Me la mette Sì Guardate Mi ha messo il costume da mini rod Ma quindi allora se vado qua su rompicapo Mi teletrasporto da Mike Guardate qua Ho la maschera del mini rod Qua all'interno della zona di Mike Cioè di Jay volevo dire Ma che roba Bellissimo Cioè guardate quante trappole che ho piazzato nel frattempo Ma io direi di fare un po' di pulizia trappole Va Prima che qua mi cominci a lagare il gioco Come non so che cosa Prendi qua No Mamma mia è vero posso tenere un oggetto alla volta Beh Allora Sciottiamo di qua Bam Via Togliamo ste trappole Togliamo anche sto mini rod Sì Perfetto Andiamo 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 Veloci 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 Andate a questo lato Togliamo le trappole anche quelle che stanno di qua Anche qua guardate quante ce ne sono Cioè si mette a lagare il gioco Quando ho sciotto per distruggerle tutte Via Bomba Beh abbiamo fatto un po' di pulizia almeno Almeno c'è un po' di pulizia in questo momento E quindi direi di proseguire da questo lato Ok Apri quella porticina Mettiamoci la maschera di rod Dopodiché ce ne scendiamo sotto nel museo Beh sarebbe facile fare sta roba qua La missione è quella Come che si chiama Poi di trovare le fotografie sarebbe molto più facile in questo modo Ok Scendiamo qua Andiamo nel piano inferiore Andiamo a vedere Boris Con la maschera del mini rod Mamma mia sono scese persino di qua le trappole Oh che bello poter No aspettate Vai di qua vai di qua Che bello potermi muovere nel museo con tutti questi mini rod Senza che loro mi possano vedere Finalmente posso girare in totale tranquillità Per questo bel museo E così finalmente posso anche godermelo qui Ad esempio se voglio leggere qua il dipinto Cosa dice qua Lo posso fare finalmente in totale tranquillità Senza che nessun mini rod venga a darmi fastidio Allora Boris dove già che stava Ah stava di qua Eccolo qua Stiamo vedendo Boris con la maschera del mini rod Adesso è il momento di passare all'immagine del nuovo mini rod Costruttore Imballatore Quello che è E' un'immagine ufficiale Quindi proprio fatta dai Keplerians Non è una fan art Non è un fan made E' proprio un'immagine presa da quelle pubblicati dai Keplerians Quindi ciò che vi farò vedere adesso Sarà proprio un mini rod ufficiale Che ancora non è stato presentato Ma che probabilmente troveremo nei prossimi capitoli Che potrebbe essere Ice Cream 7 8 9 100 Di sto passo Arriveremo pure ad Ice Cream 1000 Va bene Quindi se l'avete ancora fatto lasciate il like sotto questo video E adesso andremo a vedere l'immagine del nuovo mini rod Eccolo qua Guardatelo bene Guardatelo bene Vi ricorda qualcosa Vi ricorda qualcosa Allora Inizialmente si pensava che questo mini rod fosse il mini rod spazzino Però alla fine abbiamo visto che Sono diversi C'è il mini rod spazzino E' vestito in un modo Questo mini rod è vestito in un altro modo E' oppure un abbigliamento differente No? Ma soprattutto guardate bene la maschera La maschera Ai cerotti Gli stessi cerotti Che ci sono nella maschera Che noi abbiamo visto prima Anche se in realtà nella maschera del mini rod di Ice Cream 6 C'è soltanto un cerotto Qui ce ne sono di più Quindi questo ci fa capire una cosa Che La maschera Che è la che ne tiriamo fuori Dalla macchina imballatrice Sale per il piano superiore Quindi arriva direttamente agli altri mini rod Che stanno di sopra E sopra infatti sappiamo Che potrebbe trovarsi Una sala di imballaggio E quindi lì potrebbero trovarsi Questi mini rod Che lavorano in questo modo Ma che roba Non vedo l'ora di affrontarli Non vedo l'ora Ma guardiamolo proprio meglio va Allora Qui ci sono tre cerotti Nella maschera di mini rod Che ne abbiamo preso Invece ce ne sono soltanto uno Che poi Ora che ci penso Ora che ci penso Ma Charlie Come fa a mettersi sta maschera sulla testa? Come fa se comunque La maschera del mini rod è piccola? Soltanto Charlie lo sa Soltanto Charlie sa come metterla Ma che roba E poi qua possiamo notare l'abbigliamento L'abbigliamento comunque è un po' Diverso rispetto agli altri mini rod L'immagine che vi sto facendo vedere È diciamo Una sorta di schizzo Che i keplerians avevano creato Prima della pubblicazione del gioco Quindi comunque Il mini rod Che arriverà in futuro Nei prossimi capitoli Potrebbe essere diverso Potrebbe essere più dettagliato Potrebbe avere delle cose in più Potrebbe tipo avere anche un tesserino Ci può stare Ci può stare Ma adesso direi di tornare Su escro in sé Perché voglio far vedere Pure un'ultima cosa Diciamo che riguarda Ad alcuni commenti Che vi avete fatto negli ultimi video Che riguarda la sala macchina E la posizione Rispetto alla fabbrica Tornati qua su Ice Cream 6 Adesso dobbiamo uscire fuori dalla mappa Vediamo se riesco ad uscire In poco tempo Via 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 Devo fare attenzione Perché il rod Mi può vedere anche sulla maschera Quindi devo fare tanta 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 attenzione Sali 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 Veloce 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 Ok Allora vabbè Posso uscire anche di qua Come abbiamo fatto prima Quindi usciamo via Siamo fuori dalla fabbrica Fuori dalla fabbrica Vabbè sta maschera ormai Non mi serve più Allora Tanti di voi mi hanno detto Che la sala macchina Si trova qui nei piani superiori In realtà come abbiamo ben visto anche su Ice Cream 5 No con le mode di outfit Abbiamo scoperto che la sala macchina Si trova nell'edificio Che stava di qua Che adesso non c'è più Cioè qua ci stava la centrale idroelettrica E qui sotto Sottoterra Si trova la sala macchina Dove finisce Mike Poi il tubo che lui prende Il tubo verde Diciamo che fa tipo un percorso Con un torto Che scende Dopodichè risale E lo riporta All'interno della sala di controllo Che sta di là Che Boh si Tecnicamente forse si vede Adesso riusciamo a vederla Ma non credo Non credo si riesca a vedere Insomma comunque La sala macchina Stava qui sotto La sala controllo Sta lì sopra Il tubo scende Poi risale Lo può fare I sistemi di tubi Della fabbrica di Rod Sono molto articolati Ma davvero tanti E quindi che dire Per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere Se vorreste scoprire Nuovi segreti In arrivo di Ice Cream Spero che questo video Vi dite piaciuto Se vi è piaciuto Mi racconto Spallicciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti E buon panino a tutti